benvenuti bentornati sul mio canale youtube sono tuffo mix e quest'oggi questo venerdì 29 dicembre 2023 ma anche pochissimo alla fine del 2023 all'anno nuovo e noi continuiamo a giocarci le nostre partite con il football continuando il nostro campionato la nostra divisione tenterò di andare avanti di fare il possibile per migliorare e arrivare là dove nessuno è mai arrivato prima no in realtà dove noi non siamo arrivati comunque ragazzi grazie a tutti quanti per essere qua grazie per i vostri like le vostre iscrizioni commenti le visual tutto quello che fate per il canale ovviamente è sempre molto gradito mi fa piacere e io vi ringrazio ancora tantissimo come sempre adesso direi di entrare subito nel vivo del gioco ma diamo subito allora un occhiato dove eravamo arrivati praticamente siamo diamo subito dove andiamo a parlare qua entriamo subito nella nostra ok entriamo nel campionato del football vediamo dove siamo arrivati a che punto eravamo praticamente eccoci qua siamo a 12 punti ne manca uno per la promozione in divisione 4 4 vittori di filo ragazzi che danno una cosa per noi incredibile per noi fante scientifica abbiamo Maradona in campo e ovviamente che è un giocatore bustato quindi qualche cosina in più rispetto agli altri eccolo qua nella tecnica c'è un più due ha fatto già una partita un gol ho giocato un'altra partita con lui per vedere un po' come se la calava un gol una partita per il resto abbiamo ammesso anche cantè abbiamo altri giocatori bustati abbiamo girato un po' avete visto poi ieri quello che abbiamo inserito cantè anche lui un più due a centrocampo davanti la difesa è un ottimo giocatore e ci fa comodo con Pianco Varella capitano e c'è una nuova dall'altra parte poi abbiamo anche Koulibaly anch'essi anche gli anche gli un bustato abbiamo fatto diversi giretti abbiamo preso appunto questi giocatori abbiamo preso anche il Cristiano Ronaldo che per il momento lo teniamo in panchina ma può sempre essere utile lo vedo un buon giocatore vediamo subito dove sta il nostro amico intanto vediamo un po' qua come si è messo eccolo qua sotto il nostro Cristiano Ronaldo Neymar l'avevamo già ovviamente poi abbiamo Messi e l'Oltaro Martinez diamo un'occhiata al nostro Ronaldo bustato anche lui grandi caratteristiche ha un più due nel tiro e delle varie caratteristiche allineate al tiro zero partite non ha ancora giocato non ha ancora debutato in squadra lo farà probabilmente quest'oggi magari nel secondo tempo vediamo vediamo come sono i giocatori intanto direi di controllare il tutto se va bene abbiamo Di Marco sulla sinistra e Cansello destra ma direi a questo punto di iniziare con matchmaking nel frattempo un ringraziamento anzi un salutone i nostri amici youtubers come sempre che portano questi giocatori sui loro canali e sono Alessandro Gamer della Stace alle ben 86 e Eburneo portano anche altre cose ma fondamentalmente portano anche il calcio e anche e soprattutto il football 24 poi salutiamo l'uomo del tubo e sullo calcio che portano altri contenuti sulla piattaforma youtube ma anche da altre parti trovato un avversario vediamo subito quattro tache per noi e va bene perché il massimo che possiamo avere con la nostra linea internet non abbiamo la firma lo sapete come noi cinque anti pdg va bene altri pdg ci sta Barcellona come maglia vediamo subito se può andare bene per noi diamo un'occhiettina dove ricordo si le maglie vanno bene vi ricordo in descrizione trovate il link alla playlist come sempre di questo stesso gameplay tutti gli episodi fino ad oggi portate li trovate lì vediamo Maradona lo teniamo tranquillamente Mbappé e frecciagia vediamo chi c'è in panchina oh Ronaldo ragazzi è una freccia azzurra lo metterei subito subito in campo 101 bustato ci sta Salonoglu Barella cantere ci stanno Giulio Cesar frecciabelle lo mettiamo su Vandy che va bene così Di Marco e Cancelo a posto diamo una spinta più in avanti a Ronaldo lo mettiamo magari contro il piedista perché se fa una fuga ragazzi è veloce e ci può correre in porta per il resto direi che va tutto bene va tutto bene vediamo un pochino che altro c'è da cambiare abbiamo una chi informa poi vediamo nel secondo tempo se sì di caso può essere messo sia dentro che a sinistra Kimi Neymar frecciavede 99 messi pure Lautaro anche ragazzi una squadra di attaccati non da poco ma sempre il capo l'avversario è già pronto quindi direi di cominciare subito questa partita contro una squadra marchiata barcellona ma vediamo subito benvenuto agli appassionati di calcio e delle grandi emozioni gasperini come allenatore anche pdg va bene sicuramente un grande spot per il nostro gioco vediamo subito come come approcciare palonostra è palonostra subito in attacco vediamo subito Fulibali che la mista su di Marco e andiamo in avanti passando la percianoglu che la lasse al centro sempre nostra vai così ottimi passaggi vediamo di passarla vai ah peccato Maradona non l'ha presa lo stavversario che disimpegna ma gliela portiamo subito via con Cianoglu la passa subito a Maradona sbaglia il passaggio al centro e l'avversario riparte sulla sinistra lo prendiamo subito e siamo ancora con la palla a noi perfetto Ronaldo davanti alla porta stoppato sul tiro in essere di Ronaldo palla fuori palla nostra dai diamo con calma ragazzi che possiamo dire la nostra l'avversario mi sembra abbastanza come si può fare poco dai porta passiamo subito grande tira perché non ha tirato Maradona va bene vabbè sta scappando via saccare sta scappando via la palla s palla dell'avversario vediamo subito ottimo ottimo Fulibali l'ha fermata subito adesso riparte con Maradona per Ronaldo ancora Maradona lungo dall'altra parte barella per Maradona tira e il giocatore la devia il portiere non riesce a prenderla e angolo per noi dai sulla sinistra del portiere va a battere Barellino fuori la mette fuori l'avversario e riparte subito in attacco ottimo lo stop di Maradona la passi in avanti non arriva un alto sulla palla peccato peccato perché poteva essere un'altra azione pericolosa l'avversario che attacca lo fermiamo subito sono stati convinti nella fase di transizione ma non riesco ad andare avanti allora riprendiamo noi riprendiamo noi con Cantè Cantè lungo per Ronaldo Ronaldo Maradona che però no era Ronaldo Maradona non la prende parla l'avversario ragazzi siamo al centro capo il gioco ottimo di l'alto che va via tranquillo grande passaggio per fuori gioco di Ronaldo Ronaldo in fuorigioco ci sta ci sta va bene Ronaldo in fuorigioco ci sta ragazzi Ronaldo in fuorigioco ok madonna mi è caduto qualcosa che è successo mi si è spento tutto parla dell'avversario perché Netflix che è successo ok parla nostra guarda avuto un attimo il monitor mi si era spento l'avversario che attacca vediamo subito di Marco non riesce a prenderla c'è l'uomo che c'entra l'avversario in area attenzione 1 a 0 holland vabbè holland c'è la messa dell'angolino a destra del portiere che non è riuscito a far nulla la chieda giugno se non è riuscito a fermarla vabbè uno dello per loro quando siamo arrivati al 22 nel primo tempo di Marco torniamo cerchiamo di andare a talleggiarla e di Marco c'erano lui lancio ma la donna non c'è arrivata fa subito al portiere vediamo che ritorna su ritorna su sulla sinistra con Neymar l'avversario torna in attacco messi in aria meno male che la sbaglia mai no ragazzi siamo messi via via buttala via così grande con calma con calma ripassala ripassala vai 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 Ronaldo 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 dai ti riporto ma la donna tira in porta e poterla butti in angolo dai palla nostra sull'angolo barellino barellino dai forza impinare vai così tranquillo di testa appoggiala è troppo alto sarà un ogro di testa e l'ha messa fuori ragazzi 1 a 0 per l'avversario non ci va bene questo risultato noi occorre un punticino per andare in divisione 4 un punticino ragazzi quindi cerchiamo di tanto vi ricordo in descrizione trovate attenzione che Saka se ne va via Saka è ultra veloce ma abbiamo un cantè ragazzi che è dappertutto sempre e dovunque Marchino se la prende subito per Ronaldo Maradona lancia Ronaldo non ce l'ha fatta non ce l'ha fatta non ce l'ha fatta con calma con calma grande cantè Maradona e non la gancia Maradona ma però gli da prende subito lungo lungo Ronaldo Ronaldo dai c'è 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 rotina paneggiato Ronaldo debutto in prima squadra subito con un gol bello Lassit che l'ha sbarcato praticamente in volata Ronaldo velocissimo l'assitchiera di Cernoglu non l'ho visto bene quindi uno pari ragazzi al trentasesimo e adesso tentiamo di andare a vincerla con calma Maradona ci gira no 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 ragazzi va via l'avversario va via l'avversario attenzione attenzione grande Cabarella grande subito su così Cernoglu Asso con K vai tranquillo grande Marchino dall'altra parte per Ronaldo che la la sia tranquillo Cernoglu Maradona e Adria vai vai Varella 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 tira 2 2 1 ragazzi Varella l'ha staccata su passaggio millimetri di Ronaldo Varella il dato Ronaldo ragazzi una partita un gol e un asset debutto stupendo di Ronaldo bello il gol anche di Varella 2 a 1 ragazzi e la promozione in quarta divisione si sta avvicinando guardate il passaggio su un più del fuorigioco Varella che la rimette dalla parte opposta del portiere che non può farci niente gran botta tremenda il nostro capitano ci porta su 2 a 1 e siamo al 41 cerchiamo di ma l'avversario già sta tentando di qualche cosa sicuramente di fare qualcosa sicuramente vuole provare a rimettere la partita in sesto e perché 2 a 1 dopo che vinceva 1 a 0 ovviamente è una batosta è una batosta manteniamo la calma manteniamo la calma vi ricordo in descrizione stavo dicendo il link a telegram si il canale che il gruppo andate tranquilli iscrivetevi non costa nulla è gratuito nel gruppo si può scrivere quello che volete di calcio di calcio generale di football di fifa di calcio giocato calcio reale calcio a 360 gradi sul gruppo telegram tufomix e football ma c'è anche il canale tufomix youtube dove lì si potrà tranquillamente leggere quello che io scriverò quando farò una ride quando farò un qualcosa di diverso quando metterò su qualche cosa di nuovo leggerete tutto quello che andrà sul mio canale youtube ragazzi ok si ripartono se ne è pronto 2 a 1 per noi attacca subito vediamo grande subito di marco indietro subito per marchinos culibari e miseria grande bandic che la prende subito ronaldo maradona 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 o maradona non ho capito ovunque parla dell'avversario che vuole assolutamente pareggiarla grande così no 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 che partita pazzesca di nuovo bari nel giro di pochi minuti non si sono lasciati a battere dal subito pochi minuti fa e hanno immaginato doppietta di avversario forse ancora gli avversari nooo barella ragazzi due occasioni per rimettere la partita in vantaggio non ce l'abbiamo fatta e ormai siamo allo scadere del primo tempo eh 40 centesimo abbiamo pochi secondi ancora da giocare 10 circa ragazzi si gira parla dolore dai vai ronaldo vai 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 davido fischia ragazzi varella ronaldo e doppio di ola per per l'antario su 2 a 2 questo primo tempo bella partita belle azione tantissime azioni da noi ragazzi due dell'avversario e due gol però non ci sta due tiri di porto dell'avversario e due gol non siamo affatto contenti palla per Ollo, riparte l'avversario attacca da sinistra a destra 2-2 così bravo subito dall'altra parte e corta più forte con calma non fatelo passare grande vai vai ero provito di Ronaldo sono anche un po' stanque dopo le sfugiate che ha fatto nel primo tempo palla d'avversario vediamo fermiamolo subito grande vediamo grande ma cosa fa ma dai con calma bravo bravo stop quasi a seguire ma non è riuscito a seguirlo lo stop stop quasi a seguire ma grande 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 cos'è ci sono si sono impaperati da soli due giocatori fermate questo fermate questo fermate questo così vai via 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 no ragazzi vai subito su vai così tranquillo lo passo dai 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 Cristiano Ronaldo con calma uh tira ah non c'è nessuno madonna raga fermato fermato così ma dai ma che caso di ripallire dai vai 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 no 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 grande via subito su così da l'altra parte vai è punizione cos'è ma dai barellino ma che cazzo ma c'è Ronaldo libero e la vado a fare e vado a tirare in porta l'avversario ha due tacche rosse in attacco e vuole assolutamente andare a vincere da questa vuole andare assolutamente a vincere l'avversario vuole vincere e rimaniamo lì sul pezzo rimaniamo sul pezzo non facciamolo passare rimaniamo sul pezzo bravo bravo con calma con calma arriva Cristiano Ronaldo ecco che ripartono vogliono il gol della vittoria vai Maradona vai Maradona vai Maradona vai no che rimpallo da culo ragazzi con calma con calma vai tranquillo passa passa si è fatto trovare pronto reattivo ottima scelta di tempo no ragazzi no fermatelo fermatelo Messi oh no no fermatelo con calma con calma con calma con calma è il momento decisivo che antissimo sembra quasi restato ma va a cagare dai forza no non fatelo passare eh sì tira lungo va anche la cuore 15 minuti ragazzi di sofferete di sofferete perché bisogna fare gol eh miseria ferma oh 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 e di là oh 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 grande con calma con calma vai tu vai su così di qua lungo ma che cazzo ferma questo ferma questo grande via con calma vai via frega dai no come è fuorigioco è merda eh sì è fuorigioco porca troia vediamo di qua eh c'è la nuova di Ubarera ragazzi da casa madonna ragazzi a fare un po' di cambi subito di cambi e vediamo subito chi la mette in campo sì ci sta Lautaro di qua e mettiamo sicuramente da l'altra parte Bappé poi c'è la nuova va cambiato anche lui eh vediamo di mettere che possiamo mettere beh possiamo mettere Bellingham sicuramente a posto di Barella e se no no lo cambiamo ci mettiamo De Bruyne lasciamo il resto con me l'avversario non è ancora pronto ragazzi ma 2-2 manca poco alla fine il paleggio ci basta per andare in divisione 4 per noi è sufficiente però stiamo attenti perché l'avversario ci potrebbe fare un momento l'altro e rischiamo di rimanere in divisione 5 cerchiamo di cerchiamo di vediamo l'avversario cerchiamo di stare tranquilli quanto manca alla fine 10 minuti con calma non facciamolo passare non facciamolo passare prendiamo su un assere subito così vai no che cazzo di stop di merda no grande con calma con calma con calma in su in su si a destra così avanza aronaldo no aronaldo ma perché non ha passato aronaldo perché non ha passato aronaldo raga io ho fatto aronaldo e per via via così tranquillo dai subito su perfetto girola di qua no l'imparlo di merda giocata in avanti su ok lunga vai no con calma con calma che mi è ma dai un minuto no ho fatto un po' grande di balco vai su vai su tienila tienila grande vai su 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 tira è finita è finita ragazzi bastava il pareggio ci siamo divisione 4 divisione 4 per noi ragazzi divisione 4 va bene così sugli spazi si festeggia si festeggia guarda Dupo Mix siamo di andare in divisione 4 ecco i giocatori che stanno festeggiando in mezzo al campo tranquilli culibali diventato capitano con lo giusto di barella avete visto ti rimporta 6 contro 3 ragazzi totale 12 4 parate l'avversario uno a noi qualcosina in più abbiamo fatto però il pareggio ci sta ci sta bene vediamoci il premio della giornata vediamoci il premio giusto qua torniamo nel campionato promozione vediamo 13 punti li abbiamo fatti 4 vittorie finale un pareggio ci hanno letteralmente scalaventato in divisione 4 e siamo quasi a posto così vediamo l'avversario sono venuti a vedere che livello è il nostro avversario noi siamo in quinta anche lui avversario alla pari ce la siamo giocata alla pari un pareggio tutto sommato giusto anche se qualcosina in più l'avevamo fatto e comunque ragazzi io vi ringrazio per essere rimasti qua con me quest'oggi vi ricordo se volete come sempre un like per la divisione 4 un like per la divisione 4 mi raccomando un like su youtube da Tufo Mix e ovviamente se non siete ascoltati al canale sapete cosa potete fare un'iscrizione è sempre piacevole e mi aiuta a farlo crescere il canale iscrivetevi attivate anche la campanellina per essere abbiati sempre ogni volta a mettere un nuovo video sul mio canale nuovo contenuto e detto questo Tufo Mix vi saluta vi da appuntamento a presto vi ricordo telegram vi ricordo in descrizione c'è il link alla playlist vi ricordo gli amici youtube nella stessa canale vi ricordo che oggi il 29 dicembre fa due giorni finisce l'anno e insieme festeggeremo il 2024 a questo punto ragazzi ciao a tutti quanti da Tufo Mix mi raccomando alla prossima ciao ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti